Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Scusate per questa... non so, ho i capelli un po' così che non sono riuscita a metterli in ordine oggi. Vabbè, stamattina avevo deciso di cominciare questo video, però ovviamente sapete che sono molto brava a fare video perché mi dimentico proprio che sto registrando un video e quindi non vi faccio vedere niente. Vabbè, a parte questo, stamattina mi sono svegliata, sono andata a camminare con mia mamma, è una cosa che stiamo cercando di fare tutti i giorni e praticamente poi abbiamo fatto colazione, ora vi lascio le slide qua vicino della mia colazione. Per fortuna che c'è Instagram che ogni tanto mi metto a fare le storie perché altrimenti mi dimentico. Quindi andatemi a seguire su Instagram perché lì trovate praticamente tutto, perché io sono molto presente su Instagram, metto sempre storie di quello che mangio, quello che faccio, di qualsiasi cosa. Quindi vi consiglio di andarmi a seguire se non lo fate ancora. Trovate il link sotto, nell'infobox, diretto al mio profilo Instagram. Oppure potete andarmi a cercare, vi lascio qui sotto il mio nome per cercarmi su Instagram. Comunque, dicevo, siamo andate a camminare con mamma, poi abbiamo fatto colazione e adesso devo andare a prendere Peppe che ha bisogno di un passaggio e poi dovrei allenarmi. Quindi ho iniziato questo video proprio perché oggi sembra una giornata normale, bella, carina, anche perché ho ricominciato ad allenarmi e vi voglio parlare di questa cosa per spiegarvi un po' come sto facendo, cosa sto facendo, eccetera, eccetera. Ovviamente dietro c'è sempre tutto in ordine, devo dire la mia stanza la vedete sempre perfettamente ordinata. Comunque, allora, ho messo questa felpina sopra della puma, che in realtà è una magliettina, non è proprio una felpa. Poi ho messo questa canottierina sotto, semplicemente perché sento freddo. Poi sotto voglio farvi vedere questi, che vabbè, ve li ho fatti vedere nel video unboxing di Prozis. Se non l'avete visto vi lascio il link qui sopra. Il leggings è questo qui. Questo è uno dei miei leggings preferiti. Ne ho presi tre di Prozis. Due mi piacciono tantissimo, cioè questo è quello giallo, che mi avete visto su Instagram, sempre se mi seguite. Vi lascio qua accanto le slide, insomma, delle storie che ho fatto con quei leggings. E poi ne ho preso un altro, che però non mi fa impazzire, è un tessuto un po' diverso. Preferisco questi, sono molto più comodi. Allora ragazzi, sono nella stanza di mio fratello, che poi sarebbe la stanza dove mi alleno, perché c'è un po' più spazio e perché mia madre non vuole che li distrugga, ovviamente, il salone. Quindi evito di allenarmi in salone e mi alleno nella stanza di mio fratello, perché la mia è piccolina, perché è occupata tutta dall'armadio. Comunque adesso vi faccio vedere come mi sono organizzata, per evitare di distruggere tutto. Praticamente ho messo a terra, li metto sempre, ogni volta che mi devo allenare, questi tappeti, questo tappetino che si usa, insomma, per evitare di distruggere il pavimento nuovo. Non so voi, io quando ero piccolina, mia madre ci aveva comprato, a me e mio fratello, un tappeto tipo questo, però tutto colorato, per evitare di farci prendere fresco quando giocavamo per terra. E lo vedo sempre molto simile, soltanto che questo è tutto nero. Vabbè, comunque, a parte questi dettagli, ho posizionato qui sul letto, ovviamente ho messo una coperta vecchia, con Babbo Natale, giusto per rimanere in tema. Qui ci sono i miei due manubri, e qui ci sono i pesi da 2 kg per lato, quindi sono 4 kg questi manubri. Poi qui ci sono due pesi e due pesi da 2,5, e qui due pesi e due pesi da 1. E poi questo è il bilanciere a z, e questi sono i gancetti che si usano per bloccare i pesi qui. E questo è un elastico che utilizzo ogni tanto per fare un po' di allenamento. Adesso cominciamo, vi farò vedere soltanto qualcosina, cassa, bluetooth, per sentire la musica mentre mi alleno. Allora, io ho preso l'abitudine di cominciare prima con lo stretching, poi anche durante ne faccio un po', e poi faccio degli esercizi di attivazione per evitare di affaticarmi o di non sentire bene i muscoli, soprattutto il dorso, ho difficoltà a sentirlo bene, quindi prima di cominciare faccio degli esercizi di attivazione. Il dorso è già allenato ieri, oggi faremo spalle e quadricipiti. Accavallo la gamba, una gamba sull'altra, poi con le mani vado a tirare la gamba di dietro, verso di me. Quindi in questo caso sto strecciando il gluteo dal lato destro. Allora, non essendomi allenata per parecchio tempo, per le ragioni che già sapete, ho ricominciato ad allenare le spalle e tutto il resto, però in maniera un po' più soft. Infatti adesso seguirò delle alzate laterali, però utilizzerò dei pesi da 2,5, quindi non farò più di tanto, diciamo, vado molto tranquilla, proprio perché non voglio crearmi ulteriori problemi. Quindi prendo i miei dischetti da 2,5 e vado a fare le mie alzate laterali. Allora, io ho finito, sono le 12 meno 20, quindi qui lascio il casino, perché c'è una priorità, devo andare a cucinare, altrimenti non mangio niente. Siccome voglio mangiarmi le patate oggi, allora adesso me le vado a preparare almeno, le metto in frigidrice ad aria e poi vado a sistemare. Quando cuocio le cose in frigidrice ad aria, uso queste terrine che si possono mettere anche in forno, quindi vanno benissimo anche per la frigidrice ad aria. Adesso lavo le patate, le taglio a cubetti e le metto tutte là dentro con un filo d'olio, un po' di sale e via. Ho pelato le mie patate, io amo tantissimo le patate normali, non quelle dolci a pasta bianca, pasta rossa. Mi piacciono, ma non mi fanno impazzire, queste sono le mie preferite. Fatemi sapere voi giù nei commenti quali delle due preferite. Comunque le ho pelate, mi sono pelata anche un dito insieme, vabbè, ma questi sono piccoli dettagli, cose normalissime nella vita di Lenia. Quindi adesso le vado a tagliare a cubetti e le metto in quella terrina. Le condisco e poi le infilo in frigidrice ad aria. Oddio, scusate. Mescolo con le mani. Io non vivo senza l'olio, dovete sapere questa cosa. Non riesco a cucinare niente senza usare l'olio, quindi per me è indispensabile. A parte che per noi ragazze è importantissimo, perché le fonti di grassi ci aiutano a mantenere le equilibri ormonali e a non perdere il nostro amatissimo ciclo. Ok. Metto tutto in questa terrina, quella che vi avevo fatto vedere prima. Tendenzialmente non uso molte spezie perché mi danno un po' fastidio alla digestione, quindi mi limiterò a mettere olio e sale, che poi per me è il massimo. Sto aspettando che si cuoce il pollo e vi volevo far vedere le patate. Sono venute buonissime. Soltanto che penso che finiranno prima che arrivi il pollo, che il pollo sia conto. Pronto anche il pollo, le patate intanto sono diventate la metà perché le ho mangiate. Comunque questo è il mio pranzo e vabbè metà l'ho già mangiato. Allora ragazzi, ho finito di mangiare, ho riordinato tutto nella stanza. Volevo farvi vedere dove tengo, diciamo, i pesi quando non stanno in mezzo, perché ovviamente non è che lascio la stanza di mio fratello con tutti i pesi in mezzo. Ho ordinata e adesso vi faccio vedere. Qui tengo tutti i pesi nel mio armadio. Questa è tipo una cabina armadio, si apre. Vabbè, qua c'è la mia scarpiera. E poi qui ci sono tutti i pesi. Pesi da due e mezzo, i due pesi da due e mezzo, gli altri due. I pesi da uno, il bilanciere a zeta, i due manubri e l'elastico. Qui, diciamo, ho messo tutto l'indispensabile perché diciamo che il resto altro non mi serve. Quindi mi bastano quelli e li conservo lì in modo tale da non tenerli in mezzo e da tirarli fuori nel momento in cui mi servono e mi devo allenare. Comunque so che non è una cosa molto sana, ma io tendenzialmente quando finisco di mangiare necessito del mio letto e quindi ora mi riposerò un pochino. Ma anche se non dormo, comunque ho bisogno di mettermi nel letto. È una mia abitudine. So che non è proprio corretto farlo perché diciamo che la digestione necessita, diciamo, di una posizione eretta. ma niente, è un'abitudine che ho praticamente da sempre. E quindi niente, io adesso mi riposo un pochino, poi ci vediamo dopo. Eccola! Ciao amore! E che cosa stai facendo? Giro giro tondo? Niente raga, stiamo facendo la passeggiata. D'Ale si è affacciata al balcone, come sempre. E adesso andiamo a fare la passeggiatina per farle fare i suoi bisogni. E poi vado al lavoro, perché è tardissimo. Mi sono alzata tardi, non è che ho dormito, però. Semplicemente ho un po' perso tempo col telefono, niente di particolare. Quindi, adesso sono le tre e un quarto. Facciamo la nostra passeggiatina. Poi torno a casa, mi faccio una doccia veloce. Mi vesto e vado al lavoro. Sta quasi tramontando il sole. In realtà è un po' coperto queste nuvole, però... Molto bello. Sempre molto bello. Allora, vi faccio vedere velocemente l'outfit. I capelli sono mezzi legati, perché al lavoro mi dà fastidio avere i capelli avanti. Quindi li ho legati per metà. Poi ho messo questo maglioncino grigio, che mi piace tantissimo, questo giro collo. Sotto ho messo una maglia, perché io sono freddolosa, quindi vabbè. Poi, pantalone nero e stivaletto nero. E questa è la borsa, la solita borsa di Michael Kors. E poi metterò il cappottino. Allora ragazzi, io sto andando al lavoro e noi ci vediamo dopo. Sono le quattro, quindi sono abbastanza in orario. Alle quattro e mezza devo stare allo studio, quindi... Ci vediamo dopo. Allora ragazzi, intanto che ero al lavoro è arrivato questo pacco. È praticamente l'altro giorno ordinato da Amazon. Un tapirulan magnetico, quindi soltanto per camminata. Non va bene per la corsa, però era soltanto per aumentare la mia attività cardio. Dato che io non corro, ma cammino. Vabbè, ogni tanto con Peppe corro, però è una cosa molto rara. Quindi, niente, mi andava tantissimo e l'ho comprato. Ora devo vedere un attimino come si monta, poi vi aggiorno. Allora, perfetto perché non è neanche da montare. È già praticamente montato. Devo soltanto uscirlo e aprirlo. E vedere se devo collegare qualche cavo. Penso questo... Non so a cosa si collega, forse a questo robottino che penso calcola... Eccolo, la velocità, non lo so. Va bene, vi faccio vedere dopo. Che carino! Qua ci sono io. Comunque è molto bello, è fatto molto bene. E tra l'altro ci ho messo due secondi per montarlo. Due secondi perché l'ha già montato. Dovevo soltanto collegare il filo, che è questo qua. Che passa da dentro lì e arriva sotto. Ed è collegato al tappetino. Quindi si accende non appena io inizio a camminare. Comunque, domani mattina inizio a provarlo e vi faccio sapere com'è. Quindi penso che continuerò il video anche domani in maniera molto veloce. Perché questo già oggi mi sono dilungata abbastanza. Vi farò sapere. Allora ragazzi, con la faccia di sonno. E dopo aver montato il mio tapis roulant, che si trova lì, dietro il mio armadio. Come sono contenta. Vi mando un bacione e ci vediamo domani perché ho deciso di continuare questo video. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Però mi devo muovere e mi preparo il pancake. Se vi interessa vi lascio il link qui sotto diretto al mio profilo Instagram perché lì diciamo posterò la ricetta di questo pancake. Quindi se vi interessa andate a cercarmi lì. Per ragazzi oggi è venuto meglio di tutti gli altri giorni perché ho messo la mela prima, molto tempo prima. Quindi sono venute le mie le tutte caramellate. E questo è il pancake. Buonissimo. Penso una delle cose che aspetto di più al mattino è il cappuccino. E questa è la mia tazza preferita. Ecco qua la mia colazione. Bene. Questo è il pancake che ho fatto. Vi ho detto trovate la ricetta su Instagram. È con le miele. Ed è senza glutine e senza lattosio. Adoro. Oggi è venuto particolarmente bene. Di solito quando faccio i video vengono tutte male le cose però oggi è venuto tutto molto bene. Anche il cappuccino. E niente. Quindi mi sto litigando con il tapirulano. Perché ho scoperto che non mi avevo fissuto. E infatti si muoveva questo in avanti. Quindi poi l'ho fissato. Ma l'ho fissato troppo. Quindi adesso non riesco più a piegarlo. Perché non riesco a togliere questa vite. E non mi ricordo da che lato devo girare per svitarla. Genio. Ok. È arrivato in soccorso mio padre. Ha svitato la vite. Ora l'ho avvitata in maniera un po' più leggera. Con una mano un po' più tenue. Senza fare troppo casino. Quindi ora è fisso. Non si muove più. Comunque qui c'è lo schermino. Questo è il poggiamani. Che è gommato. Poi questa è l'asticella dove si poggia una volta chiuso. E questo è il tappetino. Comunque adesso che ho fissato bene tutte le viti. Non funziona più decentemente. Perché stamattina lo sentivo poco scorrevole. E il motivo era perché era troppo alto. L'inclinazione era al minimo. Qui ci sono due livelli di inclinazione. Io l'avevo messo al livello diciamo... Quello per la camminata lenta insomma. Adesso l'ho inclinato leggermente di più. Quindi al minimo. E ora scorre bene. Per fortuna. Allora prima di salutarvi volevo farvi vedere dato che vi piace sempre tanto l'outfit di oggi. Dato che i vestiti non ne stiamo usando perché non si può uscire. Allora ho pensato di vestirmi un pochino più carina anche soltanto per andare a fare la spesa. Comunque ora vi faccio vedere. Praticamente ho messo questi stivaletti che già conoscete. la calza nera, una gonna così molto particolare con le tasche e in vellutino. Non so se si vede. Sì. E poi questo maglioncino che è sempre il mio preferito. L'avete visto anche in qualche altro video. E poi siccome non fa particolarmente freddo ho deciso di mettere il giubbottino di pelle. Mascherina sempre presente. Poi ho messo questa fascia che secondo me ci stava benissimo con questo look del giorno. Comunque ora mi metto alla luce naturale e vi saluto per bene. Vorrei concludere qui questo video. Ne approfitto della bellissima luce che c'è stamattina. C'è un sacco di sole. È bellissimo. Quindi ho pensato di chiudere il video stamattina. Anche perché mi sono preparata per andare a fare spesa con mamma. E quindi ne approfitto di questa luce naturale bellissima per salutarvi. Perché altrimenti chiudo sempre il video con una luce pessima e gialla. E quindi nulla. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così lasciate un like. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E lasciate un commento se vi va. Io vi mando un bacione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.